Ieri c'è stato l'incontro con il commissario di energia che ci ha un po' dato traccia di come stanno valutando i piani, le proposte di piano presentate. In generale il giudizio nei confronti della proposta italiana c'è parso essere positivo, addirittura ha detto che è un piano molto ambizioso ed è stata anche apprezzata lo sforzo di onestà, nel senso che non abbiamo, il governo italiano, la proposta, non abbiamo parlato di tappeti volanti, di cose lontane dal mondo reale. Come lei sa qualcuno ci ha detto che invece il piano era poco ambizioso, questo è stato apprezzato, c'è naturalmente, e questo lo colgo, la commissione ci conosce molto bene, questo è notorio, c'è naturalmente l'esigenza di un qualche approfondimento sulle misure, le modalità con cui conseguire gli obiettivi del piano energia e clima. Grazie. Grazie.